bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale vi ricordate che qualche giorno fa vi ho portato il video raga dove vi spiegavo come vendere le nostre macchine che duplichiamo perfetto vi ricordate che vi ho detto prendete questo video con le pinze esatto raga rockstar ha già ricambiato non tutto ma una cosa fondamentale allora ragazzi come ben sapete come vedete da questo screen il limite massimo la settimana scorsa rockstar aveva portato a 30 veicoli ciò ci permetteva di fare più di 70 milioni appena iniziavamo l'account vendendo 30 issi duplicate con targa diversa sacrificando sempre una lg diversa ragazzi sono resi conto che hanno avevano fatto una cosa illegale e quindi di nuovo l'hanno riportato a 20 quindi ragazzi state attenti rispettate le 20 macchine non vendetele più arrivate a 17 non vi mettete a rischio e ragazzi rispettate se volete staremo tranquilli le tre macchine in due ore ok poi una volta finite arrivate a 17 cosa dovete fare raga dovete star fermi per 30 ore io vi consiglio di fare così io facendo così non ho mai avuto problemi ragazzi sapete benissimo che faccio account ormai da un sacco di tempo quindi io vi consiglio di starmi ad ascoltare non duplicate con glice dove la targa è uguale mi raccomando non vendete più di due o tre veicoli al giorno con la targa personalizzata e aspettate sempre le 30 ore dopo raga è fondamentale se avete l'account nuovo potete permettervi di vendere di filato ragazzi le 15 17 macchine all'inizio quando l'account è nuovo e poi dovete stare fermi sempre con le 30 ore reali quindi ragazzi a questo punto vi lascio in descrizione le due duplicazioni utili e uniche che dovete fare tutte quante si fanno in due raga una è massiva l'altra no con queste non prendete blocchi se rispettate la tempistica che vi ho spiegato quindi rega a questo punto lasciate un like lasciate un commento supportare savic supportate il canale iscrivetevi abbonatevi se ne avete voglia volete supportarmi alla grandissima e sbada bam alla prossima ciao